Nell'incertezza generale l'ultima novità che piomba dal governo su Catania è la mini-IMU, l'imposta sulla prima casa da pagare entro il 24 gennaio. L'ennesima scadenza che, oltre a caricare di un ulteriore onere cittadini, aggiunge confusione e commercialisti tecnici, spiega Angela Russo, ragioniere dello studio toscano e presidente dell'associazione di categoria Razionem. Bene, come al solito siamo qui a disposizione del nostro Stato, all'ultimo minuto, penso, il 23 sera faremo gli F24 con i codici giusti e l'importo giusto. E dopo questa tassa, che toccherà anche chi è presente nel 2012, sarà la volta della IUC, l'imposta sulla seconda casa con annesse tasi e tari, una frantumazione della vecchia ICI, insomma, che se non altro aveva il vantaggio della chiarezza. Sono io che ho i contribuenti buoni, ma il contribuente serio e onesto vuole pagare, però vuole pagare il giusto e vuole sapere quello che paga. Come diceva lei prima, c'è molto scioglilingua e penso che questa incomprensione sia anche voluta. Nell'imbo alle prese con calcoli difficili sminuiti come figura i professionisti, anche da Catania si dicono pronti a incrociare le braccia. Dico ora basta.